Il 50 di martedì 12 marzo, da 10 minuti, la fumata bianca ha annunciato ai romani e al mondo che non c'è ancora il nuovo Papa. C'era stata speranza per qualcuno, diceva qualche suora latinoamericana, beh anche un Papa si è dimesso, c'erano poche probabilità, chissà che non ci sia la probabilità e non si realizza la probabilità di un Papa alla prima fumata, e invece no, come in un lampo, il funo nero accompagnato da un boato della folla ha lasciato capire che bisogna aspettare ancora fino a domani. Appuntamento quindi a domani mattina, la piazza si è svuotata in un attimo, le luci di San Pietro, il cielo che è tornato sereno.